Un fiore rosso, un simbolo delicato ma di grande impatto visivo che racchiude delicatezza e forza, la stessa forza che stanno mostrando le donne iraniane nella battaglia di valori e diritti che sta costando la vita a tante di loro. Per mostrare vicinanza a chi lotta per rivendicare diritti che dovrebbero essere insindacabili ma che in alcuni paesi non sono riconosciuti, l'ufficio della consigliera regionale di parità, congiuntamente con la Corte d'Appello di Potenza, la Procura Generale della Repubblica verso la Corte d'Appello di Potenza e con i Lions Club di Melfi e Potenza Duomo hanno organizzato un'iniziativa simbolica presso il Palazzo di Giustizia del capoluogo di Regione Lucano. Un fiore rosso in dono a ogni donna che entrava in tribunale per appoggiare la protesta delle donne iraniane per rivendicare diritti e libertà. L'iniziativa ha visto la partecipazione della Presidente della Corte d'Appello Rosa Patrizia Sinisi, del Procuratore Generale Armando D'Alterio, della Consigliera Regionale di Parità Ivana Pipponzi e dei presidenti dei due Lions Club Michele Cristiani e Loredana Satriani. È sempre la giornata dei diritti delle donne, dei diritti delle persone più deboli, più fragili, dei bambini. Ora lo spunto è quello delle donne iraniane a cui viene anche negato il diritto di potersi vestire, di poter esprimere un credo, di poter avere un modo di essere che rispecchia la propria personalità. È una realtà moderna che ci sconforta, questo rigurgito di violenza e di repressione nei confronti delle manifestazioni delle donne a tutela dei diritti civili, che sembravano una cosa scontata e invece non lo è, non lo è assolutamente. Abbiamo portato avanti questa giornata di solidarietà per le donne iraniane. I diritti, soprattutto i diritti umani delle donne, della libertà di autodeterminazione non sono mai scontati e quindi è importante far sentire la nostra voce e soprattutto farci sentire accanto a queste tantissime donne.